Il corpo a circa 6-7 metri dalla riva, il volto che pericolosamente affiorava e poi veniva sommerso dall'acqua. Una donna di circa 50 anni del bellunese aveva deciso di porre fino alla sua vita, ad allertare i carabinieri e alcuni familiari. La segnalazione al 112 ha fatto scattare le ricerche immediate. La zona dove si sono concentrate era breda di piave. L'auto della donna è stata subito localizzata a Saletto. La pattuglia dell'arma, composta da un brigadiere e da un appuntato della stazione dei carabinieri di Villorba, è subito a corsa sulle rive del piave, ad un centinaio di metri dalla vettura. Hanno visto la donna priva di sensi e non ci hanno pensato un attimo. Si sono gettati in acqua in un tratto non profondissimo, ma dove la corrente era piuttosto forte e le pietre scivolose non consentivano di restare agivolmente in equilibrio. L'hanno raggiunta e portata a riva, poi si sono sfilati la giacca a vento e l'hanno coperta, un gesto che ha salvato la donna. Sul posto anche i sanitari del Sume 118, che dopo aver constatato l'ipotermia della donna, l'hanno subito trasportata in ospedale per le cure del caso.